Musica Incidente oggi, mercoledì 23 maggio, intorno alle 15 in via Fabria, nei pressi dell'incrocio con via De Gasperi a Rivarolo Canavese. Una Fiat Punto condotta da una ragazza di 21 anni di Fabria è uscita di strada e abbattuta la cancellata in metallo che derivita il marciapiede e si è scantata contro il cancello di un'abitazione. La giovane è stata subito soccorsa dalla Croce Rossa di Rivarolo che si trovava nei pressi per un altro intervento, subito raggiunta dalla polizia locale e dal soccorso avanzato della Croce Rossa di Castellamonte. Medicata sul posto è stata trasportata dall'ambulanza di Castellamonte all'ospedale di Cornier, non è grave. La giovane è stata trasportata dall'ambulanza di Castellamonte all'ambulanza di Castellamonte all'ambulanza di Castellamonte. Grazie a tutti! Grazie a tutti!